Il Parco archeologico di Pestum e Velia ha concluso un'estate che non dimenticherà facilmente grazie ai successi collezionati in questi ultimi tre mesi e alle novità introdotte nel campo della promozione e valorizzazione dei due siti archeologici. L'estate 2022 è stata anche la prima post-pandemia, vissuta senza ingombranti restrizioni anti-Covid, oltre che la prima pianificata sotto la direzione di Tiziana D'Angelo. Nel periodo tra inizio giugno e fine agosto, il museo e l'area archeologica di Pestum e l'area archeologica di Velia sono stati visitati da oltre 150.000 persone. La cifra è significativa se paragonata ai numeri record dell'estate 2019 che sono stati ampiamente recuperati e superati. A contribuire all'aumento dei visitatori del parco, anche le numerose innovazioni nell'ambito della fruizione, promozione e valorizzazione di Pestum e Velia, tra cui la riapertura al pubblico dei depositi del museo di Pestum, visitati da 1750 persone dal 18 giugno scorso. E la riapertura del percorso di visita di Porta Rosa, il monumento simbolico di Velia, la più antica testimonianza di arco a tutto sesto della Magna Grecia. Fondamentale anche l'istituzione del servizio navette gratuito dedicato ai possessori del biglietto d'ingresso al parco, che nel fine settimana di agosto ha consentito a circa 300 passeggeri di raggiungere Velia da Pestum e di godere di una visita libera al tramonto nella città bassa e sull'Acropoli. Questa prima estate a Pestum e Velia mi ha regalato grandi soddisfazioni, ha dichiarato il direttore Tiziana D'Angelo. Assieme ai miei collaboratori abbiamo lavorato con dedizione per costruire rapidamente una programmazione ampia, diversificata e innovativa. In risposta alla ripresa del turismo nazionale e internazionale, a seguito dall'uscita dell'emergenza sanitaria, abbiamo creato percorsi di visita e reso i nostri siti sempre più accessibili, migliorando anche i collegamenti tra Pestum e Velia.